Scuola elementare di Grotti, trasferimento dell'asilo di Villanova, procedure di gare relative alle coperture di Montevescovado. Il comune di Nocera Inferiore lavora lacrimente per portare a termine quanto prima una serie di lavori pubblici. Il sindaco Maglio Torquato fa il punto della situazione e rassicura sullo stato di salute delle opere. Si stanno completando, sono quasi completate, credo completate, le procedure di gara per quanto riguarda i lavori di copertura e messi in sicurezza dei prefabbricati pesanti di Montevescovado, quelli di aggiornamento e di interventi sul cimitero, già è stato fatto quello per i loculi, e per adesso anche la giudicazione per quanto riguarda la scuola elementare di Grotti, che anche lì attendeva da una serie di anni, da un cospicuo numero di anni. Si erano bloccati i pagamenti per la questione proprio degli spazi finanziari. Credo che gli arredi saranno completati di qui a breve per una serie di interventi che consentiranno di avere anche un luogo di accoglienza scolastica in quella parte, anche per quanto riguarda l'asilo comunale e l'asilo nido, che vorremmo quindi spostare, che sposteremo dall'attuale allocazione, che è quella di Villanova, per ragioni evidenti di collocazione geografica. Questo è un altro punto che mettiamo a segno come amministrazione e tra gli obiettivi che ci eravamo prefissi nel corso della nostra azione amministrativa. Grazie a tutti.